Cosa contestate voi? Ci troviamo davanti ai lavoratori della... Della Vodafone di Brea, ex Vodafone perché attualmente è condata da oggi e siamo stati esternalizzati, noi siamo parte dei 914 che nell'arco di questi due mesi hanno subito il processo di esternalizzazione e siamo qua perché siamo contro quello che la legge 30 permette di fare a aziende come Vodafone che hanno comunque un fatturato di 4 miliardi e si permettono di lasciare a vendere come merce dei lavoratori in questo caso 914 che non sono poco. E quindi secondo voi cosa bisognerebbe fare? Secondo noi bisognerebbe innanzitutto mettere mano a quella legge, abrogarla e rifarla da capo, cogliendo delle scienziaggini come la cessione di ramo d'azienda e tante altre cose che rendono il lavoro precario a gente come noi che ha 30 anni e si trova praticamente merce come giustamente diceva. Quindi voi non siete i bamboccioni che esige? No, 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 è tutt'altro che i bamboccioni, anzi. Abbiamo, alcuni hanno mutui, hanno una casa da mandare avanti, una famiglia e i bamboccioni sono qualcun altro. Grazie, grazie.